La data non c'è, verrà stabilita dal governo Meloni nelle prossime settimane. In ogni caso le elezioni amministrative si terranno una domenica nel periodo compreso tra il prossimo 15 aprile e 15 giugno. In Calabria, salvo aggiornamenti ulteriori, saranno 41 i comuni chiamati al voto. Nessuno dei centri interessati ha una popolazione maggiore di 15.000 abitanti, motivo per cui non sono previsti turni di ballottaggio, a meno che, eventualità ovviamente più unica che rara, si registri la parità dei voti dei candidati a sindaco più votati. Solo in tal caso si renderebbe necessario procedere a un secondo turno. In cinque comuni calabresi il Consiglio si rinnova per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato. Si tratta di Carolei, Piane di Crati, Bianco, Scilla e Sinopoli. Ovviamente la maggior parte sono stati sciolti per motivi diversi. C'è poi il caso mandatoriccio, dove il Consiglio Comunale è stato sciolto al rinnovo per scadenza naturale, in seguito alle dimissioni di sei consiglieri. Vediamo insieme quali sono i comuni interessati alle urne. In provincia di Cadanzaro c'è Cardinale Curinga Gasperina, Guardavalle, San Mango d'Aquino, Santa Catarina dello Ionio e Staletti. In provincia di Cosenza si vota Bonifati, Cannacariati, Carolei, Casali del Mango, Castrolibero, Maglierà, Malito, Mandatoriccio, Marano Marchesato, Paterno Calabro, Piane Crati, San Martino di Finita, Serra d'Aiello e Terra Vecchia. Nella provincia della città metropolitana di Reggio Calabria si voterà a Bianco, a Candidone, a Condofuri, a Fiumara, a Gioiosa Ionica, a Locri, a San Piero di Carità, Santa Cristina da Spromonte, Scilla, Serrata e Sinopoli. In provincia di Vibbo, a Dinami, Filandari, Geocarne, Nardo di Pace e Parghelia, mentre a Crotone si voterà in tre comuni, a Cerenzia, a Savelli e a Scandale.